e buonasera a tutti amici dei fuoricampo tifosi del palermo anche solo simpatizzanti del mondo rosa nero oggi siamo qui per parlare di ternana palermo terminata 1 a 1 io però prima di tutto vi annoio chiedendovi di condividere questo video con i vostri contatti di mettere mi piace il pollicione fondamentale per farci girare di commentare in questo video sotto questo video che cosa ne pensate della gara tra ternana e palermo di questo pareggio che probabilmente scontenta un po tutti e due per quanto visto sul campo per quelle che erano le ambizioni di classifica del palermo e soprattutto ragazzi perché vi annoio ogni video vi annoiamo con queste cose perché purtroppo il nostro è un canale che parla del calcio della serie b parla del venezia parla del palermo che fa tantissimi focus su parma cremonese abbiamo ospiti di queste squadre però purtroppo vi chiediamo di aiutarci a farci conoscere perché è un calcio che pochi raccontano che pochi hanno voglia di di raccontare perché investirci del tempo spesso non è proficuo quindi ragazzi vi chiedo condividete sulle pagine sui vostri nei vostri contatti insomma fate in modo di fare girare questo video commentate e pollicione poi se volete iscrivervi al canale e anche perché no e fare delle donazioni siete i benvenuti allora ragazzi ternana palermo 1 a 1 ennesimo passo falso di rosa nero che a parte la vittoria risicata contro il brescia sono ormai in un in un loop negativo che vedo veramente difficoltà a capire come possa interrompersi questa è una squadra che continua sulla falsa riga delle partite precedenti a non mostrare assolutamente gioco a non avere una solidità difensiva oggi mancavano ceccaroni mancava di francesco insomma le assenze erano importanti però non basta per giustificare l'ennesimo passo falso contro una squadra di bassa classifica perché ricordiamo ormai il palermo perde contro il lecco si ferma contro lo spezia perde contro la sampdoria che sta risalendo oggi pareggia con la ternana insomma si perde col cittadella che oggi è ottavo in classifica però insomma inizia con con il palermo la striscia di di tre vittorie consecutivo comunque fa con il palermo i punti necessari per 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 salire in classifica questa è una squadra che non ha non ha né capo né coda la proprietà prima della sosta ha voluto confermare questo tecnico un tecnico che la piazza mi sento di dire sentendo un po' il polso della situazione che ha completamente messo da parte oggi mi è sembrato che anche i calciatori insomma lo seguissero poco è un tecnico che si sbraccia cioè si vede che ci tiene è un allenatore che segue la gara non sta a braccia concerte come se nulla gli importasse però purtroppo a questo palermo manca tutto manca tutto per poter andare a competere con con le due la sopra che adesso sono distanti sei punti e mentre se col parma secondo me è potenzialmente giustificabile da dalla rosa di qualità che al parma e dalla scarsa capacità allenante che che soffre il palermo quindi ovviamente due rose secondo me simili forse qualcosina in più in palermo che allenati in maniera diversa danno risultati diversi il venezia sta facendo veramente qualcosa oltre le sue aspettative con un grandissimo allenatore una squadra che a me piace perché è una squadra compatta a dimostrazione che poi anche in mancanza di una qualità tecnica come nel caso del parma si riesca comunque a fare un bel calcio un buon calcio come quello che vediamo a venezia quindi il palermo ha qualità quindi non c'è neanche quel tipo di discorso manca proprio una capacità allenante secondo me di un allenatore che è sempre più lontano da quelle che sono gli obiettivi di questa piazza l'anno scorso è andato lontano da da quelle che erano le aspettative non tanto nei risultati di classifica quanto proprio nel gioco espresso è un palermo che puntava la salvezza ha perso i playoff all'ultimo all'ultima giornata questo fa un po capire quanto forse a livello di dichiarazioni e poi in realtà di forza in campo si sia lontani quest'anno si è parlato di crescita si è parlato di possibilità di salire questa è una squadra che è stata costruita per salire in serie a poi se vogliamo mettere delle attenuanti ci può stare capisco togliere la pressione però non stiamo facendo un favore a questa squadra se è una squadra che deve salire in serie a può fallire l'obiettivo ma non deve fallirlo a fine novembre oggi sei lontanissimo da dal tuo obiettivo di centrare la serie a contro hai due squadre che stanno volando perché il parma ieri pareggia una partita che non ha meritato di pareggiare perché col modena ha meritato di vincere ha creato altissime occasioni il portiere del parma è forse un piccolo errore arbitrale hanno influito venezia una squadra che sta che sta volando ha perso ha perso contro il palermo ma altrimenti ha una serie di risultati infinita utili è un venezia che è stato in grado anche di battere il parma insomma è un venezia che mette paura mette mette veramente paura per quanto riguarda la promozione diretta cioè la cremonese in forte crescita c'è un como che sta dimostrando comunque di essere una squadra all'altezza nonostante i cambi in panchina cadanzaro che veniva da tre sconfitte consecutive va a vincere il derby con il cosenza il modena che viene secondo me massacrato dal parma ma che comunque resta in partita e va a pareggiare insomma questa è una serie b che non ti lascia possibilità di di perdere troppo tempo e secondo me la sosta delle nazionali era decisiva per dare quel cambio di continuità che l'anno scorso ha permesso al genova di salire in serie a dopo una partenza con blessing abbastanza discutibile la partita io ve la racconto come l'ho vista cioè ho visto una squadra che si è fatta mettere sotto i primi final goal del vantaggio del palermo da una ternana che è scesa in campo con l'obiettivo di andare a riequilibrare una classifica che la vede oggi al penultimo posto e un palermo che dopo la conferma dell'allenatore io mi aspettavo diverso in campo nell'atteggiamento nel carattere nella voglia se è una squadra che non ci ha nemmeno provato da la sensazione di non provarci neanche se a inizio stagione salvavo quantomeno il carattere di questa squadra in campo che lottava fino alla fine che aveva voglia di provarci che dimostrava di essere una squadra forte per concretezza oggi vediamo una squadra svogliata vediamo una squadra che fa fatica a uscire con un'idea dalla propria metà campo brunori completamente fuori da da una qualsiasi qualsiasi manovra quando devo andarsi a prendere il pallone poi non non ha la 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 capacità di lucidità per andare a a a pungere oggi oggi si è mangiato un gol abbastanza importante per il resto pigliacelli ti tiene ti tiene ancorato a questo punto perché già al primo tempo la la ternana poteva avvicinarsi al pareggio fa una grandissima parata al portiere del palermo e ripeto ma alla fine alla lunga il gol lo prendi stati se guardiamo le statistiche è una partita anche più o meno equilibrata io vi dico che in campo secondo me la ternana ha meritato quantomeno il pareggio se noi meritava anche qualcosina in più il gol del palermo viene avviene su calcio piazzato il colpo di testa di lucioni casasone invece fa un gol su su un'azione che ormai abbiamo imparato a vedere su un inserimento e una palla bassa purtroppo purtroppo ragazzi quando non hai una fase difensiva all'altezza perché non credo che il palermo abbia una una fase difensiva all'altezza ha una difesa molto forte che è una cosa molto diversa nel calcio purtroppo il palermo ha una rosa eccezionale una difesa fatta secondo me di giocatori fortissimi per la categoria in cui è però non ha una fase difensiva e ormai sono troppi gol che prendi perché fuori aria non c'è una pressione sul tiratore o perché l'esterno lascia spazio su di tiro a chi a chi viene cioè lascia crossare l'esterno per poi lasciare il tiro facile a chi viene onestamente è difficile è difficile così è difficile poter continuare a giustificare questo tipo di squadra con le potenzialità che al palermo 19 gol sono secondo me troppo pochi con la capacità difensiva del palermo nonostante a oggi sia la miglior difesa della serie a insieme al venezia secondo me 11 gol in 14 partite sono troppi detto questo ragazzi io l'ho vista così ditemi voi cosa ne pensate di questo ternana palermo ditemi voi se come me pensate che l'era corini sia ormai da chiudere io non sono d'accordo con la società che ha confermato la fiducia non sono purtroppo le società straniere tendono a cambiare con tanta 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 difficoltà però io credo che l'esempio del genoa dell'anno scorso debba essere usato come punto di riferimento perché il genoa l'anno scorso decide di cambiare un allenatore che è completamente strano ormai a quello che vediamo in campo a quello che vediamo i propri tifosi a completamente alla realtà del genoa mette dentro gilardino e e c'entra e c'entra la la il passaggio in serie a perché arriva secondo dietro al frosinone io credo che si debba fare dell'esperienza genovese il o genuana visto altrimenti poi allarghiamo troppo l'esperienza genuana il il giusto il giusto incipit per poter andare a cambiare quella che secondo me è una stagione che può essere recuperata sei punti sono tanti ma hai ancora scontri diretti il secondo la seconda metà della del campionato per poter andare a recuperare è un palermo forte è un palermo che è migliorabile sicuramente non è una squadra imbattibile non è una squadra non migliorabile però bisogna bisogna sbrigarsi perché il tempo questa serie b te lo lascia ma fino a un certo punto questa è la mia visione ciao a tutti ragazzi al prossimo video